Accelera l'insidioso covid nel Salernitano. Sono 49 gli ultimi casi comunicati dall'unità di crisi e riferiti all'intera provincia. Nel corso di luglio i numeri si sono quasi triplicati, senza che fortunatamente si sia registrato anche un aumento dei ricoveri. Anche a sud di Salerno si registrano nuovi focolai. A Marina di Camerote è stato chiuso per dieci giorni il ristorante attorno a cui si sono sviluppati sei contagi tra il personale, cinque relativi a cittadini di Lentiscosa e uno di una persona di Licusati. Visto che fanno tutti parte allo stesso ambito lavorativo è stata disposta alla sanificazione del locale. Il comune di Camerota dunque dopo mesi torna a registrare positivi. Sapri invece sale a quota 3, dopo che al caso esistente se ne sono aggiunti altri due, tutti tre giovani. Si tratta infatti di un 13enne e di un 21enne, quest'ultimo appena rientrato nella cittadina. Sei contatti di caso posti in quarantena appartengono a tre nuclei familiari distinti. A Santa Marina due le guarigioni registrate negli ultimi giorni dovrebbero essere dunque 4 o 5 i positivi totali, con casi al momento registratisi principalmente tra i giovani di Policastro, un unico focolaio già da tempo circoscritto e che riguarda tre nuclei familiari. È tornato covid free invece San Giovanni Appiro, stabile la situazione a Vibonati con tre contagi. A Vallo della Lucania non sono più positivi i titolari del bar chiuso una decina di giorni fa. A Casalvelino invece un matrimonio è stato annullato dopo che qualche giorno prima della sua celebrazione il papà dello sposo è risultato positivo. Con ogni probabilità aveva contratto il virus sul posto di lavoro. Nove i casi a Castelnuovo Cilento, cinque ad Agropoli, tre a Moio della Civitella. Nel Vallo di Diano invece riflettori puntati su Montesano sulla Marcellana dove questa settimana i cinque casi già noti se ne sono aggiunti altri 15 portando il totale a 20. Il dato, ha detto il sindaco Rinaldi, è riferibile a 4-5 nuclei familiari soprattutto in un'area del nostro territorio che vedono in alcuni casi una pervasività del virus tra quasi tutti i componenti, segno che possa trattarsi presumibilmente di variante delta. Nella cittadina il numero dei vaccinati ha superato il 60% dei residenti. A Padula al momento i positivi sono quattro, uno dei quali è un giovane rientrato dall'estero. A Teggiano, proprio in questi giorni, è emerso un nuovo caso per cui il comune non è più covid free. A Sala Consilina infine i casi totali sono nove.